Con lo Shell i1 andremo a vedere alcuni tipi di collegamenti per rendere le luci smart. Per definizione lo Shell i1 è un dispositivo innovativo che consente il controllo remoto degli apparecchi elettrici senza modificare gli impianti elettrici assistenti, ma che ci permette di rendere la casa domotica cioè controllata in modo smart. La prima cosa che si nota sono le dimensioni estremamente ridotte. E' progettato per essere montato su una scatola muro serie 503. Da qui si vede come può occupare lo spazio del portafrutto vuoto. Osservando il dispositivo vediamo i morsetti di collegamenti elettrici che sono O l'uscita e I ingresso per comandare un carico elettrico. SW è l'ingresso che controlla l'uscita O. L è l'ingresso per alimentazione di rete cioè la fase. N è l'ingresso per alimentazione di rete nel neutro. E' importante osservare che le uscite costituiscono un contatto pulito. Per questo significa avere una elevata flessibilità nei collegamenti senza ricorrere a un relè esterno. In sostanza possiamo dare l'uscita a quello che vogliamo. Un interruttore, un deviatore, un invertitore, un pulsante eccetera. Questo a schema è il primo metodo di collegamento cioè quello diretto. Detto anche collegamento di base a un carico elettrico. Dopo il collegamento elettrico ci serviremo della app Shelly Cloud per l'accensione e lo spegnimento della luce.